cari amici maschietti cosa fate per tenervi in salute mio marito dice che non ha bisogno di fare nulla perché ha una salute di ferro e io ci credo ma sapete cosa mi dicono molti uomini quando vengono a fare le consulenze di naturopatia con me proprio io che sono stato sempre bene adesso sto sempre male e non so come uscirne allora gli spiego che a forza di tirarla la corda si spezza non importa quanto sia robusta per evitare di arrivare a queste spiacevoli situazioni ecco le 5 linee guida dell'oms per la salute degli uomini 1 check up regolari fare gli esami di routine e le analisi specifiche per colesterolo pressione fegato benessere di prostata e apparato riproduttivo maschile non è una cosa da fissati è la giusta chance per evitare guai peggiori ed è indispensabile dopo i 45 2 meno alcolici l'oms lo dice con chiarezza bere regolarmente aumenta il rischio di cirrosi epatica tumori a stomaco intestino vescica e reni infarto e ictus senza considerare il pericolo per sé per gli altri di incidenti o comportamenti inopportuni o violenti causati dagli alcolici 3 smettere di fumare ogni anno il fumo di sigaretta uccide 7 milioni di persone nel mondo e aumenta il rischio di tumori infarti e ictus e negli uomini aumenta anche il rischio di impotenza lo sapevate 4 una dieta sana la migliore amica della salute maschile largo a frutta e verdura di stagione sia cotta che cruda e i cibi amici della prostata che trovate in questo video e nel mio ebook dedicato alla cura naturale della prostata in descrizione qui sotto 5 sport fate almeno 30 minuti di sport ogni giorno se non è così secondo l'oms la salute è a rischio e aggiungo io attenzione anche a stress ansia e depressione seguendo questi 5 facili consigli proteggere la salute maschile è facile perché prevenire è meglio che curare se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao